Certo, la situazione internazionale non è molto rosia. I prezzi delle materie prime continuano a lievitare. È lievitato anche il lievito. Scherzi a parte, se il prezzo del petrolio continua a salire, non si sa dove andremo a finire, questo è certo. Sarà l'inflazione. L'inflazione è una brutta gatta da pelare. Proprio così. Quello che io non capisco è che cosa c'entra il prezzo del petrolio col prezzo della verdura. È vero, in Germania ha aumentato il prezzo di patate. L'unica cosa che ancora non scarseggi sono i finocchi. Di quelli se ne trovano in abbondanza e a buon mercato. In Italia c'è troppo terrorismo. Ah, io. Ma anche in Germania però, eh. Sì. Io. Venite. Passiamo in salotto. Bene. Di qua? Prego. Va bene un digestivo per tutti? Va bene. Ja. E poi potremo fare un salto in discoteca. Benissimo. Ottima idea. È un po' tardi, ma sarebbe meglio andare a letto. Andare a letto? Vuole già dormire. O forse vuole andare a letto e non dormire. Ha indovinato. Ecco i vostri digestivi. Grazie. E il suo marito balla bene? No. Lo sa che io in Germania sono considerato il re del waltzer? Ah, sì. Allora proviamo. Visto come si balla? Che simpatici. Quanto mi piaci tu. Attento, c'è mio marito. Quanta fretta. Bisogna saper aspettare.